Giovedì 19 settembre alle 21, Musica in Piazzetta Nonaria con Evviva la Piazzetta. L'iniziativa, promossa da il Circolo Erete Solidale e Culturale Rovigo, in collaborazione con il Circolo Arti Ricreative, con il gruppo Autori Polesani e con l'Associazione Petti Rosso e con il patrocinio del Comune di Rovigo, ha l'obiettivo di creare un momento di aggregazione e divertimento attraverso la musica. Unire gli eventi ai luoghi significativi della città, ha detto l'Assessore alla Cultura, eventi e manifestazioni nonché Vice Sindaco Roberto Tovo durante la presentazione a Palazzo Nodari, è sicuramente di grande prestigio. La valorizzazione di questo luogo è meritevole di attenzione. Ringrazio pertanto gli organizzatori dell'evento che contribuiscono a rendere sempre più vivace un luogo centrale per la nostra città. Il presidente del Circolo, Paolo Avezzù, ha evidenziato l'obiettivo dell'iniziativa, ribadendo l'occasione di dar vita e in questo caso anche voce, alla piazzetta, con una serata di musica anni 60 e 70. Il momento sarà anche occasione per raccogliere fondi da destinare all'informa handicap. Nicoletta Carnevale, del Pettirosso, ha invece annunciato che sarà allestito il Pettichiosco, con distribuzione di bevande biologiche a tutti i presenti.